Siamo convinti che il nostro punto di forza sia creare la qualità, producendo circa 14.000 a sportelli al giorno. Dobbiamo coniugare la quantità con la qualità. Questi risultati non si ottengono banalmente, sono frutto di ricerche con dei partner di fornitori adeguati. Per raggiungere questi risultati di qualità performante abbiamo necessità di trovare tecnologie sempre più innovative, sempre più nuove. MC ci ha aiutato a raggiungere questo grado di qualità molto richiesto nel mercato. Ha un sistema di levigatura innovativo che ci sta dando delle soddisfazioni notevoli. La bellezza dell'anta placata è la planarità, ovvero l'assenza di imperfezioni sul piano. Con questo macchinario abbiamo raggiunto un ottimo livello di finitura. Grazie a tutti. La tecnologia della Plano è certamente convinto che l'azienda ne ha acquistate due. Una per la preparazione del fondo e un'altra per la preparazione del pannello prima della fase di spazzolatura. Noi siamo un'azienda che non smette mai di innovarsi e migliorarsi. Abbiamo tante sfide in campo ad ogni livello, a livello tecnologico, a livello ambientale, a livello di risorse umane. Noi siamo un'azienda che cerca di risolvere e di migliorarsi quotidianamente in maniera trasversale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.